A Lanciano oggi ultimo giorno per la Fiera Nazionale dell'Agricoltura, successo annunciato e ripetuto anche in questa sessantesima edizione. La rassegna del Consorzio Frentano è stata accompagnata da un pubblico attento e da espositori fiduciosi, confermando ulteriormente il suo ruolo propulsivo per gli addetti ai lavori. 60 anni sono tanti, significa che c'è un legame profondo tra la città di Lanciano, da parte della regione Abruzzo nei confronti di questa fiera, di questo evento e quindi un riconoscimento importante, un traguardo importante. Da qui parte un messaggio complessivo importante dove si riguarda il futuro dell'agricoltura in maniera prospettica positiva, nonostante le mille criticità che vengono da due anni di Covid e vengono da un contesto internazionale di guerra di profonda crisi e di necessità di intervenire su alcuni settori. Una scommessa vinta, perché dopo 60 anni è il punto di riferimento dell'agricoltura in Abruzzo. Io sono solito dire che l'agricoltura abruzzese è cresciuta con la fiera di agricoltura. Nel 1994 la regione Abruzzo giustamente fece una legge nella quale dichiarava l'ente fiera polo fieristico regionale, si è investito molto, si sono risanati i conti. Adesso è il momento di investire anche sugli altri due capannoni e di cominciare a programmare ulteriori fiere oltre questo fiore all'occhiello che è la fiera di agricoltura. È un anniversario importante, 60 anni di fiera dell'agricoltura, vuol dire iniziare una storia nei primi degli anni 60 e portarla a termine in questo periodo, dopo tante traversie, tanti problemi, tante situazioni e tanta storia alle spalle. Nel frattempo la fiera è questa, quella che noi vediamo adesso, la fiera è cresciuta, è diventata uno dei poli più importanti, sicuramente del settore agricolo, più importante del centro sud. È un'eccellenza del territorio, è anche un orgoglio per il territorio e noi siamo presenti sia per supportare l'iniziativa, ma anche per essere proprio, come dire, lo snodo principale degli operatori che si incontrano nel momento fieristico, dove la legge della domanda e dell'offerta hanno bisogno poi anche dell'intervento di chi può garantire servizi, può garantire anche un intervento, se vogliamo, anche di finanziario, a sostegno degli investimenti che vengono portati avanti da un settore che noi consideriamo un settore strategico e non solo è assolutamente affidabile.